In un'estate all'insegna del caro prezzo ecco arrivare un respiro di sollievo, i saldi estivi e con loro la caccia allo sconto. In Toscana partiranno sabato 6 luglio, andranno avanti per 60 giorni, dunque fino al 4 settembre, secondo quanto previsto dalla delibera regionale 514 del 22 aprile 2024. Se siete stati attenti ai prezzi di partenza, sia dal vivo che online, non mancheranno le occasioni per risparmiare soprattutto nel campo dell'abbigliamento, ma attenzione ai finti sconti. Per avere qualche consiglio su acquisti sicuri e trasparenti, Federazione Moda Italia e Conf Commercio forniscono alcune utili indicazioni, sia per gli esercenti che per i clienti. I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole depreciamento, se non venduti entro un certo periodo di tempo. La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo, o nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Sul fronte ai pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e riguardo l'indicazione del prezzo c'è l'obbligo di indicare quello normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Sui siti i brand mettono in genere a disposizione dei clienti più affezionati speciali promozioni anche qualche giorno prima, ma anche qui meglio vigilare con attenzione.